Una buona giornata, ben ritrovati dalla redazione di Sette in punto. Questa mattina abbiamo il piacere di ospitare un giovanissimo direttore artistico e anche presidente di un'associazione altrettanto giovane. Benvenuto allora Edoardo Bottacin che ha solo 23 anni ma ha un sacco di cose da raccontarci. Lo so perché me l'ha anticipato prima che partisse la sigla. Direttore artistico e presidente dell'associazione Musi Incantus di Treviso. Partiamo da questa associazione e poi racconteremo anche tutte le cose belle che state facendo a Treviso ma non solo perché ci sposteremo fino a Cortina. Assolutamente sì. Musi Incantus è un'associazione che è al suo secondo anno di vita. È nata proprio dall'intenzione mia, di colleghi professionisti del settore, di creare una realtà che potesse ampliare quella che è l'offerta culturale della città di Treviso. E non solo Treviso. È nata con un progetto ben definito dedicato a Rossini nel 150esimo anno dalla nascita. È stato fatto un festival che poi fosse legato alla città perché l'altro obiettivo nostro è sempre creare delle manifestazioni che siano legate alla città, al territorio, che possano essere assimilate come tali. Quindi non solo esecuzioni musicali ma anche riscoperte, valorizzazioni e questi ingredienti messi in un unico cartellone riescono anche ad avere una targettizzazione maggiore rispetto al singolo concerto in chiesa piuttosto che al teatro. Tant'è vero che l'anno scorso come è andata? L'anno scorso è andata molto bene, è stato fatto un festival di 10 appuntamenti, abbiamo debutato anche al comunale, quindi c'è stato eventi per tutta la città, musei, biblioteche, chiese, comunale, con un grandissimo apprezzamento di pubblico perché tutti gli appuntamenti hanno registrato praticamente il sold out, con gente che si lamentava anche perché le chiese sono troppo piccole per questi appuntamenti. Però ci teniamo che il pubblico risponda e che percepisca anche gli elementi più di nicchia come elementi di grande valorizzazione. Queste mostre che abbiamo fatto suscitano sempre l'interesse non solo degli appassionati ma anche dei curiosi, soprattutto anche della stampa. Poi magari diventano appassionati. Allora voi, l'associazione è giovane perché abbiamo detto nasce l'anno scorso, voi siete un po' come una decina e chi c'è dietro a questa associazione? Perché a parte che l'età media è piuttosto bassa. C'è un'associazione di otto appassionati del settore della musica e sono otto, ho voluto otto professionisti. Cosa vuol dire? Per fare un festival ci vuole molto lavoro, come anche i nostri ascoltatori possono immaginare se si vuole puntare sulla qualità. La scelta nostra è stata otto fondatori, più ovviamente dei volontari, ognuno dei quali avesse delle competenze specifiche nel settore incaricato. Per dire ufficio di produzione, una persona che nella vita reale come professione faccia questo. Grafico, uno che di lavoro insegna web design all'Accademia di Belle Arti. Quindi otto professionisti che possano dare velocità e anche l'immagine di un'associazione che possa lavorare come una vera istituzione culturale. Quindi dodici persone a servizio della cultura che mandano avanti questi progetti. Certamente. Allora, come arrivate voi a questa collaborazione con il comunale e poi che cosa avete pensato di fare? Quest'anno la vera sfida era dopo l'anno scorso, dopo la manifestazione di Rossini che si esaurisce con quell'anno là, che cosa proporre alla città un tema forte. Quest'anno, studiando un po' di libri, un po' di aneddoti di cui sono particolarmente appassionato del teatro comunale, è emerso che erano i 150 anni dalla ricostruzione di questo teatro. 1868 il teatro andò a fuoco, 1869... Quindi non solo la Fenice. Non solo la Fenice, anche il Treviso andò a fuoco più di una volta, tra l'altro. L'ultimo incendio, 1868, 1869, reinaugurazione, 2019, 150 anni, tondi, tondi. Cioè ci avevano messo un anno per sistemarlo? Un anno, diciamo, è stato sistemato in un anno senza le fondamenta, ecco, perché nel 98 quando si fecero i lavori è emerso questo piccolo dettaglio, però ecco, ci misero un anno e noi abbiamo detto, beh, 150 anni, in questa situazione in cui c'era il cambio gestione del teatro, il comune voleva esporsi, voleva sostenere proprio il rilancio anche del teatro insieme al teatro stabile, la regione con questo progetto condiviso abbiamo presentato questo lavoro, abbiamo detto, quest'anno cadono 150 anni, non tutti se lo ricordano, creiamo una manifestazione condivisa e abbiamo presentato un progetto di un cartellone che abbiamo voluto chiamare proprio Autunno musicale, perché è il titolo che abbiamo scelto anche noi. Autunno musicale è proprio il titolo di quella stagione che c'era al teatro comunale che è durata per più di 35 anni fino alla chiusura del 98. Nell'anno dei 150 anni pareva particolarmente bello ricordare Autunno musicale che è stato veramente uno dei periodi più floridi del teatro comunale dal punto di vista di quella che era la stagione lirica. Perché poi cosa conoscono i trevigiani del loro teatro? Magari, voglio dire, questo serve anche a farli avvicinare alla storia, a quello che è successo, perché poi la storia di questi tempi è un po' la storia delle città, no? Esattamente, il teatro di Treviso ha una storia veramente importantissima e magari tutti si ricordano la storia recente, ma c'è anche la storia meno recente dalla guerra, a prima 1869, in quegli anni là ci sono stati grandissimi nomi, e proprio la manifestazione ha avuto sia dei concerti che ha avuto anche un percorso di valorizzazione delle figure cardine che hanno segnato il teatro comunale. Beh, andando a ritrosa coi tempi, Enza Ferrari, una delle più grandi pianiste collaboratrici che Treviso ha avuto nel dopoguerra e ha lavorato con Maria Callas, ma poi andando a ritrosa abbiamo fatto una pubblicazione, in prima, in tempi moderni, di una messa di Carlo Fontebasso, questo direttore del coro del teatro comunale, che lavorò con Toscanini. Toscanini venne a Treviso quattro volte e questo Carlo Fontebasso, che era anche organista del Duomo, perché c'era questo stretto collegamento tra il coro del teatro e comunque quella che era la cappella musicale della cattedrale, scrisse parecchie composizioni, questa era una delle più importanti, noi l'abbiamo fatta eseguire per l'occasione in collaborazione col festival organistico Città di Treviso e la diastema, casa editrice, l'ha pubblicata, quindi abbiamo restituito anche alla città un patrimonio che era destinato a rimanere se non in archivio. A proposito di pubblicazioni, voi sareste anche pronti, poi andiamo sulla programmazione, sareste anche pronti perché avete fatto una vera e propria ricerca? Sì, assolutamente l'altra restituzione che vorremmo e contiamo di riuscire a fare è stata quella della cronologia del teatro, ho conosciuto un appassionato, perché così è stato, di cronologia di storia dei teatri, che è di mestre. Si chiama proprio cronologia, spieghiamolo a noi. Esattamente, è un diario di bordo sostanzialmente. Che hanno tutti i teatri. Tutti i teatri, una volta si chiamava registro teatrale, in cui venivano segnati tutti gli spettacoli, era di proprietà del comune, c'era l'ufficio, spettacoli, e adesso invece ogni teatro tiene quella che è la sua attività ordinaria. Treviso l'aveva un po' spezzettata perché tante gestioni del teatro, tanti avvicendamenti nel corso dei 150 anni, ognuno fa il suo ma nessuno aveva mai messo insieme i pezzi, correggeva errori. C'è stata una persona che in questi ultimi anni si era interessata, sono venuto a contatto, lui ha fatto questo diario di bordo, la cronologia del teatro comunale, dal 1869 ad oggi, di tutta l'attività lirica, concertistica, concerti straordinari, quindi un patrimonio di restituzione veramente molto importante, anche perché ne era stata fatta una intorno agli anni, fine anni Ottanta, ma con molti errori, imprecisioni. Quindi rivedendo quel lavoro là, questa persona che ha vissuto anche gli ultimi 50 anni proprio a teatro, si chiama Iorio Zennaro, possiamo dirlo, un carissimo amico, lui si è accorto anche di tanti errori precedenti, ha fatto questo lavoro, è pronto, c'è il file esecutivo, basterebbe trovare ovviamente chi abbia il piacere di contribuire alla pubblicazione, perché si tratta di un tomo di 350-400 pagine. Ecco, che potrebbe essere utile perché? Perché questo potrebbe essere il primo tomo, il teatro di Treviso non ha un volume che racconta la sua storia come la maggior parte dei teatri a livello nazionale, Treviso è un teatro importante, ha una storia importante, c'è questo progetto che si vorrebbe realizzare con altri partner della città, di fare una pubblicazione della storia e la cronologia è uno di quegli elementi essenziali delle pubblicazioni o comunque della storia di un teatro, perché ti dà l'immagine di quello che era la vita e cultura della città, perché c'è scritto quali opere sono state fatti, in che periodo, quindi uno dice, ah ma guarda, Puccini era ancora vivo, aveva scritto quest'opera un anno fa e Treviso subito la fece eseguire, quindi vuol dire che Treviso era attenta alle nuove modi. Certo, era sul pezzo, come diremmo noi. Era sul pezzo, piuttosto che ha fatto fare per 50 anni sempre la stessa opera e soprattutto ti dà la visuale di quello che era il target artistico del teatro, perché vedi che nomi giravano, quali erano i cantanti, i Pavarotti piuttosto che la Callas, per dire non sono passati per Treviso, ma questi era il livello che passava in un certo periodo per Treviso e fa vedere proprio che Treviso era una città sempre attenta ai grandi nomi e era una delle più grandi piazze a livello nazionale. Chi potrebbe pubblicare, voglio dire, libri di questo tipo? Come, per dire, è stato fatto un bellissimo lavoro in occasione dei 40 anni del concorso Tosi dal Monte, Elena Filini ha curato questo volume, che poi è stato pubblicato da antiche edizioni, con il supporto della Fondazione Cassa Marca, è stata fatta un'operazione di questo genere. Ovviamente per fare un'operazione di questo genere è necessario un coordinamento a più parti, magari, appunto, se Fondazione avesse piacere, la possibilità soprattutto, rilanciamo l'appello al Presidente Garofalo, Fondazione Cassa Marca, di concerto magari col Teatro Stabile, che è il nuovo gestore, appena rilevato il teatro potrebbe essere anche un bel segno di apertura. Certo, ma perché poi questo importante lavoro, insomma, alla fine venga... reso fruibile anche perché è testimonia, proprio per non perdere la memoria anche di tanti passaggi, perché spesso il vero problema di questi lavori sono che l'attività ordinaria, bene o male, è registrata, ma spesso è l'attività straordinaria, i concerti straordinari di qualche associazione, come la nostra, ma tante altre, negli anni hanno portato qualche grandissimo nome. Era straordinaria, nessuno ha registrato questa cosa, e quindi è passato, insomma. Trovando, proprio guardando l'archivio storico, sono venuti fuori concerti straordinari con alcuni nomi che veramente hanno lasciato di stucco un attimo qualcuno che ha detto ma come, nessuno si ricordava di questa cosa. Quindi insomma è importante anche per la memoria storica. Assolutamente sì, assolutamente. Allora, tornando invece all'autunno musicale, che scelte avete fatto? Allora, io leggo, quattordici proposte, tra, ovviamente, dentro alle quattordici ci sono concerti, esposizioni e conferenze messe nelle chiese trevigiani fino a spettacoli per scuole e famiglie per una narrazione del teatro tutto tondo, capace di raggiungere tutte le fasce della popolazione. Un po' questo, no? Quello che vi prefiggete. Assolutamente sì. Noi abbiamo inaugurato, lo ricordo, il cartellone, il 5 ottobre, è stato anche il concerto di, possiamo dire, riavvio dell'attività del teatro dopo il cambio di gestione con la presenza di Fabio Sartori che non ha bisogno di presentazione perché è veramente uno dei più grandi, se non il più grande tenore lirico spinto in carriera italiano richiesto da tutto il mondo che ha inaugurato anche il teatro La Scala. Lui è di Treviso, è di Santa Bona e per questa occasione ha voluto esserci, ha voluto omaggiare la città della sua presenza insieme all'orchestra Filarmonia Veneta che è ritornata a suonare nel suo teatro in maniera semistabile comunque con l'intenzione di renderla di nuovo parte del teatro. Quindi questo è stato l'A all'apertura delle celebrazioni con un galà dedicato a Puccini Verdi, un programma curato da Elena Filini, la parte musicale delle scelte che ripercorresse anche musicalmente i 150 anni perché per ogni titolo del programma Elena ha trovato gli aneddoti, i ricordi, le produzioni memorabili. Da lì siamo andati avanti e adesso ci aspetta un'altra parte del cartellone molto cospicua ecco di appuntamenti io li ricordo ce ne sono due in particolare. Uno domenica è un appuntamento anche questo di Nicchia nel senso che andremo a Palazzo di Francia in Via Roggia, uno dei palazzi domenica, 17 novembre, ore 16, Palazzo di Francia in Via Roggia, uno dei palazzi storici della città, nel salone al primo piano ci sarà la musica da salotto perché abbiamo voluto indagare anche quello che era l'ambiente circostante del teatro nel 1869 e a Traviso c'erano parecchi teatri di corte, così chiamiamoli, piccoli teatri nei palazzi, sale da concerto e salotti. Ma ce ne erano molti, sì? Ce ne erano molti, i Riccati avevano un salotto, i Conti Pola avevano un salotto, l'Ateneo stesso aveva nel Palazzo Filodrammatici aveva un piccolo teatro. C'erano molte realtà che avevano questi piccoli salotti dopo di teatri, non erano veri teatri, erano piccole strutture e noi abbiamo voluto recuperare un appuntamento di questo genere. Una domenica pomeriggio di novembre come spesso accadeva nell'autunno abbiamo messo insieme un ottetto di Fiati diretti da questo giovane Lorenzo Vignato e abbiamo costruito un programma dedicato a quella che è la musica da salotto. Quindi c'è Beethoven con le variazioni sul tema per dirilacidarem la mano, sempre un occhio a quello che era il mondo dell'opera e dopo delle trascrizioni perché la musica da salotto erano anche tante trascrizioni di quello che era il mondo d'opera. Cioè si portavano in casa quello che era il grande repertorio che poi si ediva a teatro e quindi è stata questa operazione di ricostruzione di quello che poteva essere un appuntamento da salotto di fine ottocento. Piuttosto consueto insomma da quello che è capito. Era una cosa molto consueta all'epoca, era come il tè delle cinque per i nostri colleghi inglesi. Bello però. E questo è ingresso libro ovviamente perché l'altro focus di questa manifestazione è che ha alcuni appuntamenti, due grandi appuntamenti che hanno avuto un ingresso a pagamento sempre con un occhio di riguardo però a tutta la popolazione. Grazie anche agli sponsor che sostengono questo tipo di cartellone e sono parecchi e cui noi ringraziamo possiamo sempre offrire dei concerti che abbiano dei prezzi che stiano nella media se non sotto la media per i nomi che proponiamo e questo lo dico sempre con orgoglio perché cerchiamo di non escludere nessuna fascia di popolazione. E a motivo di ciò il 21 di novembre abbiamo il secondo grande appuntamento che ci vede ospiti al teatro comunale ci vede lavorare in sinergia con il teatro stabile del Veneto perché questo appuntamento è anche per loro l'inaugurazione della stagione concertistica è stato fatto questo accordo per cui noi abbiamo proposto un appuntamento loro l'hanno assorbito anche nella loro stagione quindi ci sarà l'esecuzione della messa di Gloria di Giacomo Puccino una delle più grandi composizioni per coro e orchestra e due solisti l'unica composizione sacra di Puccini di questo livello e avremo avremo un tanto degli ospiti vocali straordinari perché abbiamo Fabio Armiliato che risulta essere uno dei più grandi interpreti pucciniani per anni compagno della compianta Danila De Sia uno di quegli ospiti che veramente ha fatto la storia del teatro che gira regolarmente il mondo e torna a Treviso con gran piacere dall'altra parte c'è sempre anche l'attenzione a quelli che sono i giovani le giovani promesse il suo collega il baritone Biagio Pizzuti e per i trevigiani che se lo ricordano lui ha vinto il Totti nel 2017 con Lucia Di Lammermul preggevole concorso internazionale che da sempre in là a cantanti importanti lui ha preso il via a Treviso quest'anno ha cantato in Arena di Verona chiamato a fianco a Fabio Sartori quindi ha fatto una carriera di rapida ascesa e noi l'abbiamo riportato a Treviso in segno di attenzione noi mettiamo giovani e non meno giovani l'orchestra appunto è un'altra delle realtà che Musim Cantus sostiene che ha all'interno delle proprie attività è l'orchestra dei giovani archiveneti questa orchestra di giovani professionisti stabili non è un'orchestra che si forma perché esiste da molto tempo esattamente non è un'orchestra che si forma ogni volta che c'è un concerto è un'orchestra che ha una sua attività ordinaria per tutto l'anno con prove regolari attività concertistica stabile tra l'altro no? avevamo fatto i conti prima 36 appuntamenti 36 appuntamenti che sono Musim Cantus nel suo cartellone quest'anno ha offerto 36 appuntamenti tra l'orchestra giovani archiveneti e il resto delle attività quindi un'attività considerevole per essere al suo secondo anno 8 concerti esattamente 8 concerti da qui a gennaio per l'orchestra giovani archiveneti in tutto il territorio regionale quindi un grande successo e loro suoneranno la messa di gloria proprio di Puccini diretti da un altro grandissimo trevigiano il maestro Giancarlo Andretta direttore riconosciuto a livello internazionale che per l'occasione ecco qua lo dico sempre con grande orgoglio lui viene all'interno di questa manifestazione perché Musim Cantus ha sempre un'attenzione verso i giovani i giovani direttori perché sono tanti direttori come il resto il nostro ospite ecco grazie veramente e il maestro Andretta visto il lavoro che è stato fatto con alcuni suoi ex allievi allievi è stato fatto proprio un percorso di valorizzazione anche di quella che è la scuola di direzione del conservatorio di Vicenza del maestro Andretta che è una delle più floride del nostro paese abbiamo instaurato questo rapporto di collaborazione per questo cartellone e lui ovviamente ha detto vi do una mano anche io immagino che poi quando uno vi vede sente questo entusiasmo ricordiamo che il nostro ospite ha 23 anni si può dire perché finché sono così pochi e quando si percepisce la competenza anche per persone voglio dire non certo preparate come la sottoscritta se non insomma armate di curiosità è difficile mi immagino anche dirvi di no forse anche per quello riuscite a calamitare i nomi importanti no? perché mi auguro che sia anche questa una delle motivazioni noi ecco noi ci teniamo molto alla professionalità nel senso che come associazione proprio il format di proposto di modo di porsi è quello noi abbiamo prefisso ci siamo prefissi l'obiettivo di farlo come se fossimo un ente teatro non lo siamo non lo siamo coscienti ma di essere il più professionali possibili e offrire ai musicisti oltre che agli ospiti un clima di grande professionalità e questo sicuramente è percepito come un valore aggiunto da almeno quelli che sono stati i nostri ospiti anche nel corso di queste due stagioni l'anno scorso c'è stata anche Luciana Serra che non è proprio l'ultimo dei soprani e anche lei è rimasta molto soddisfatta dall'ambiente da proprio il clima e il modo di lavorare si vede che anche questo sicuramente ha influito anche col maestro Andretta che ha proprio voluto offrire la sua prestazione a sostegno della nostra attività e questo è un grande motivo d'orgoglio per noi perché altrimenti queste grandi personalità non potrebbero certamente rientrare in quelli che sono anche i nostri budget di programmazione c'è anche un appuntamento che è bello segnalare quello del 18 dicembre perché voi avete voluto coinvolgere anche le scuole le famiglie assolutamente 18 dicembre teatro comunale di Treviso un appuntamento dedicato a Rossini ai grandi scenografi italiani Gianini e Luzzati i loro cartoni sono ben riconosciuti e alla musica dal vivo è stato presentato questo appuntamento alle scuole abbiamo già 400 ragazzi giovani bambini che verranno allo spettacolo e in cui ci sarà l'orchestra che suonerà che è la mattina alle ore 11 è aperto alle scuole ma anche al pubblico che abbia piacere a parteciparvi basta richiedere siccome c'è ancora insomma qualche posto volendo c'è ancora qualche posto basta richiedere una prenotazione scrivendo a infochiocciola musincantus.it anche da fuori provincia anche da fuori provincia senza alcun tipo di problema costa 5 euro il biglietto quindi veramente una cifra molto low cost importante perché importante perché insomma per questi bambini per questi ragazzini perché ci sarà l'orchestra che suona dal vivo le overture di Rossini ne abbiamo fatto una scelta di 5 tra cui anche lo dico sempre per curiosità quella del momento secondo che nessuno conosce ma era l'ouverture che Rossini ha scritto per la cantata che ha dedicato a Treviso perché Rossini ha dedicato una cantata ad Antonio Canova e alla città di Treviso che è stato oggetto del festival dell'anno scorso 5 overture eseguite dal vivo mentre vengono proiettati sullo sfondo questi cartoni di Luzzati e Giannini che sono stati pensati proprio per essere fatti sulle musiche di questo overture di Rossini che qualcuno di questi cartoni si chiama Gazzaladra piuttosto che Barbieri di Siviglia e quindi c'è l'animazione che segue la musica dell'orchestra e noi abbiamo voluto commissionare un testo a un'attrice del teatro stabile Alice Centazzo che facesse un po' da tradunione delle 5 overture che creasse una vera storia e che questa fosse narrata e quindi c'è uno spettacolo tra narrazione musica e proiezione che coinvolge veramente tutti gli ambiti anche del teatro allora come avete capito molta professionalità molto entusiasmo tanto è vero che fate anche altro no? per esempio appunto dicevamo da Treviso vi siete spostati a Cortina e cosa fa Musincantus in questa sede? Musincantus da quest'anno da quest'estate anzi da luglio ha avviato un progetto a Cortina una stagione di quest'anno è stata di teatro musica e teatro brillante prime anche assolute a Cortina d'Ampezzo su un progetto che è stato presentato alla comune di Cortina come una bozza di progetto e poi è stato ampliato è stato valutato dal comune di Cortina come quello che mancava a Cortina ossia un'entità che facesse da collegamento tra quelle che potrebbero essere gli eventi del territorio che creasse una stagione perché Cortina non aveva una stagione terratale neanche concertistica prima d'ora quindi Musincantus ha creato la stagione Cime si chiama di Cortina d'Ampezzo insieme al comune di Cortina che ha appoggiato questo progetto ha fatto una stagione di 12 appuntamenti da agosto a dicembre sta già lavorando alla riconferma per la prossima attività istituzionale e questo progetto ovviamente è un progetto ambizioso perché Cortina non ha mai avuto niente quindi bisogna educare quello che è il pubblico residente a Cortina ma d'altro canto offrire a quelli che sono gli ospiti di tutto il livello che arrivano a Cortina gente che è abituata la sera prima ad andare al teatro alla scala piuttosto che all'opera di Roma degli spettacoli di livello e quindi questa è stata la vera sfida fare un cartellone che portasse elementi qualitativi di alto livello e che lavorasse di concerto con quelle che sono le attività locali e le associazioni locali ovviamente che meritano di essere valorizzate tra l'altro un dicembre abbastanza pieno vedo dicembre a Cortina ogni weekend abbiamo un appuntamento abbiamo per citare gli elementi più importanti abbiamo l'8 di dicembre c'è il Cortina Fashion Week e lo chiuderemo in Conchiglia con un fantastico quintetto vocale della Germania che fa musica pop solo con la voce Boxid non so se si pronuncia esattamente le ore 18 e 30 in Conchiglia Piazza di Bona questo è un appuntamento realizzato col Viva Voce Festival che ha preso avvio adesso a Treviso è il principale festival di musica cappella a livello nazionale quindi abbiamo fatto anche delle sinergie abbiamo il grande repertorio sinfonico corale con l'esecuzione della messa di Haydn in Basilica Maggiore il sabato 14 dicembre ore 21 ingresso libero anche questo e poi ricordiamo il concerto di Capodanno del 29 di dicembre con l'Orchestra Filarmonia Veneta in formazione sinfonica il maestro Titotto che dirigono un gran galà proprio di chiusura dell'anno in cui Musicantus si impegna a presentare al pubblico anche quella che è la prossima stagione voi acquistate già lavorando acquistiamo assolutamente già lavorando con nuovi partner anche a livello regionale proprio per offrire a Cortina in ottica anche di quelli che sono le finali dei mondiali i mondiali anzi del 2021 una programmazione di assoluto spessore come come voglio dire occuparsi di questo da giovani insomma esponenti di una musica di questo tipo di musica di qualità perché a volte può sembrare che sia musica di nicchia no cioè è necessario convincere poi che questa è cultura che è cultura importante che è una parte importante del nostro paese oppure se si arriva con il piede giusto è più semplice allora diciamo che questo questo sì tanti lo percepiscono come un mondo di nicchia devo dire che ad oggi un po' questa difficoltà l'ho sempre superata col fatto che sono giovane nel senso che quando si presenta un'associazione che ha un'immagine fresca comunque di giovani appassionati spesso la passione va oltre è quello che può sembrare oh ma questo è un concerto di musica classica perché riesce a convincere lo spettatore che se c'è un giovane che non sono sempre io perché non sono il front office dell'associazione ovviamente ci tengo a dirlo è un lavoro veramente di concerto con tutti i miei colleghi lavoro di concerto sta anche nel nel doppio significato della parola riusciamo a convincere la gente che questa è musica per tutti certo in base ai luoghi in cui andiamo e a quello che è l'abitudine del territorio cerchiamo anche di proporre ovviamente dei programmi musicali che possano essere più o meno facili all'ascoltatore Treviso ha un pubblico molto educato su questo avendo la storia del teatro quindi a Treviso spesso ci preoccupiamo anche di andare a fare dei lavori di nicchia che vengono sempre molto apprezzati a Cortina in cui invece stiamo facendo un lavoro di educazione del pubblico certamente bisogna creare mettere in cartellone dei titoli che siano perlomeno accattivanti conosciuti questo non vuol dire che siano di qualità inferiore anzi il vero problema è quando si mettono i grandi titoli per dire un record di Mozart piuttosto che una sinfonia di Beethoven la vera difficoltà è farla a un livello riconosciuto perché sono brani che conoscono tutti e quindi quando vengono a sentire vengono che conoscono già la musica e quindi devi offrire qualcosa di più quindi io non ho incontrato molte difficoltà sarà che per me è un po' il mio lavoro però la curiosità c'è nel senso che un ragazzo un ragazzo comunque di 23 anni arriva ad occuparsi di musica a questo livello e anche di organizzazione di musica di possibilità di diciamo offrire musica di questo livello agli altri perché nel senso perché in famiglia magari no questo è il mio obiettivo professionale nel senso io faccio questa attività ovviamente lo facciamo come associazione a titolo di volontari sostanzialmente siamo che facciamo questa attività ma io ho fatto un percorso di studio una laurea in economia aziendale e sto terminando il diploma in organo ho fatto una serie di tirocini al teatro di Treviso e in altre istituzioni culturali proprio sulla parte di management organizzativo management artistico proprio perché questo è il mio obiettivo che vorrei essere l'obiettivo lavorativo quindi occuparmi di musica di cultura in un teatro a livello professionale ma bisogna avere voglio dire alle spalle una famiglia non necessariamente ma di musicisti la scelta che ho fatto e che dico sempre in casa mia nessuno è musicista quindi ho avuto il piacere di cominciare a studiare lo strumento perché mi sono innamorato di uno strumento e poi ho percepito questa passione per l'organizzazione che mi dava più che l'esecuzione musicale quindi ho virato la formazione su questo ambiente non bisogna avere una famiglia necessariamente alle spalle ma penso che ma magari una famiglia che voglio dire che incoraggi che sostenga perché comunque il mondo musicale il mondo culturale italiano necessita anche di un pizzico di sostegno da parte di chi ci vuole investire sopra perché è un mondo che ancora non dà quelle garanzie come può essere vado a fare commercialista per dire una professione qualunque e ho la certezza di trovare il lavoro chi sceglie di investire la propria vita nella cultura nella musica e soprattutto nella parte di me deve affrontare molte sfide quindi l'importante è avere un sostegno di tipo di forza di credere su quello che si sta operando questo lo ritengo insomma ci pare che Edoardo Bottaccino abbia tutte le carte in regola allora grazie buona fortuna per tutto allora grazie a voi per averci seguito noi abbiamo passato anche la mail ma trovate anche sui social il riferimento per quello che riguarda Musincantus grazie per averci seguito vi ricordo che poi noi torniamo naturalmente come sempre anche con gli appuntamenti dedicati alla cronaca una buona giornata su 7 Gold grazie a voi